ora che hai visto bene come funziona il wallet kepler che è il migliore in assoluto e hai capito anche la potenza sia degli airdrop che li andiamo ad affrontare nel paragrafo dedicato quindi non ti preoccupare vai avanti con questo corso e goditelo ti faccio vedere anche la potenza del restake e ti vorrei dimostrare anche quanto crediamo in questo ecosistema cosmos da qui a cinque o dieci anni ti faccio vedere il progetto nomic che non è nient'altro guarda andiamo su nomic punto io e poi ti spiego che cosa stiamo facendo nomic è un bitcoin bridge un ponte che connetterà bitcoin porterà liquidità di bitcoin all'interno dell'ecosistema cosmos quindi una bella scommessa potrebbe andare bene o potrebbe fallire quando clicchi enter the app io ho avuto la fortuna di avere in staking su kepler qualche atom non tantissimi saranno stati mille dollari di atom e guarda ti faccio vedere due cose ho ricevuto in totale se fai la somma di questi che sto togliendo dallo staking del mio wallet nomic all'incirca 540 nomic ora questo token avrà una tiratura massima all'inizio di 21 milioni da qui a dieci anni di 210 milioni quindi potrebbe valere pochi spiccioli o anche discreti dollari quindi 540 nomic se valgono 100 dollari l'uno conti alla mano dovrebbero essere intorno ai 50 mila dollari per farti capire quanto crediamo in questo progetto grazie a matteo e alla community aci 69 abbiamo aperto anche un nodo il nostro primo nodo staking aci 69 lo trovi come 0 per 100 fi aci 69 perché 0 per cento fi perché se guardi tutti questi della i vari noti validatori hanno tutti commissioni dall 1 al 2 per cento 5 per cento a qualcuno anche il 10 per cento da quanto crediamo in questa community abbiamo deciso di reinvestire perché server purtroppo costano anche se sono macchine private virtuali cioè non è che abbiamo il nostro computer acceso a casa ma sono in un'infrastruttura virtuale nel mondo costicchiano abbiamo deciso di credere in questo progetto nomi che metterà a disposizione un nostro server dedicato a c 69 come vedi dove non facciamo pagare nessuna fees se te clicchi manager ma manage perdonami adesso ci prendiamo un caffè come vedi le commissioni sono a zero quindi se e solo se vorrai delegare i tuoi nomi che a noi per ora partiamo con nomi che non ti nascondo che è molto dispendioso costa parecchi soldi creare un nodo validatore oltre che impegno e nottati notte notti fondi passa come vedi parlo anche un po male perché però dormito quattro ore questa notte insieme a matteo comporta molti sacrifici ma crediamo così tanto nell'ecosistema cosmos che anche noi 10 69 vogliamo fare la nostra parte e per dimostrarti lo mettiamo 0 fees cioè non prendiamo nessuna commissione per nel caso qualora quando tu vorrai mettere delle gacce i tuoi token e abbiamo creato degli alert non è mai offline server ci stiamo attrezzando per far parte anche noi di questa community cosmos questo per farti capire quanto ci crediamo prima di farti vedere l'auto steak che è potente e anche sui nostri nodi stiamo studiando per implementarlo che cos'è l'auto steak è una funzione e te la faccio vedere nella prossima lezione che se impostata il nodo ti mette in automatico senza che tu fai sempre i soliti click a staking i tuoi token una volta all'ora una volta al giorno o a secondo magari hai raggiunto che ne so 10 nomi che te li rimette in auto steak ad ora nomi che non è ancora proprio il progetto non è ancora diciamo compatibile con l'auto steak cioè con lo staking automatico ma gli sviluppatori del texas ci stanno lavorando e anche noi stiamo studiando per come metterlo in staking sul nostro nodo lo trovi come 0 fee ac 69 ad ora siamo fra i nodi inattivi perché come vedi guarda dovremmo stare alla posizione 61 63 no 63 mi sembra ecco vedi già 60 perché abbiamo 20 nomi che a staking grazie tutti da parte della community ac 69 quando raggiungeremo circa i 600 nomi che andremo tra i nodi attivi ti dico che io ne sto delegando 540 fra 11 12 giorni quindi tempo un paio di settimane quando vedrai questo corso al 99 per cento già saremo tra la lista dei nodi attivi su nomi con commissione al 0 per cento e chissà se la community ci seguirà riusciremo a creare anche altri nodi ac 69 su altri progetti sempre a 0 per cento fees per darti tutte le commissioni indietro tutti i massimi interessi ok ovvero nomi che adesso dai 140 per cento di interessi su cui 140 per cento di interessi noi tratteniamo lo 0 per cento per dare indietro tutto all'ecosistema atom e anche a te che sei parte della comunità c69 ti ricordo il gruppo facebook dove sei invitato parliamo non solo di atom ma anche di trading e tutto il resto vai avanti nella prossima lezione che vediamo l'autosticking che è fondamentale e che lo dovremmo avere implementato anche nei nostri nodi da leo daci 69 punto trading un caro saluto ci vediamo una prossima lezione da un'occhiata anche al progetto nomi che perché potrebbe essere un interessante scommessa ovvero portare liquidità da bitcoin nell'ecosistema atom potrebbe essere potente perché quando un token analisi fondamentale ha una sua utilità quindi è necessario per fare qualcosa allora non è un token creato alla pene di segugio a cavolo di cane non è un token che non serve a niente ma ha una sua utilità ci vediamo nella prossima lezione per l'autosticking e fare compound dei tuoi interessi da leo daci 69 punto trading e video ripetizioni un caro saluto ciao e grazie grazie